io ho frequentato il liceo linguistico al primo levi di bollate ho studiato quindi francese e tedesco il bello dell'università è che puoi scegliere veramente di fare quello che vuoi personalmente dopo le superiori le lingue le ho amate le amo tuttora se non la possibilità le utilizzo il più possibile però ho deciso di non continuare con le lingue straniere e scegliere altro dopo le superiori ho scelto di matricolarmi all'università di pavia e ho scelto la facoltà di comunicazione innovazione e multimedialità mi sono trovata molto bene essendo comunque l'università di pavia un'università appunto storica davvero famosa con docenti preparati sono stata comunque contenta della mia scelta volevo lavorare nell'organizzazione di eventi o comunque con i social media nel marketing e agenzie pubblicitarie io ho fatto la pendolare praticamente ogni mattina avevo il treno alle sei e mezza fortunatamente avevo un'altra mia compagna di classe delle superiori che ha intrapreso questo percorso con me quindi non ero sola e fortunatamente avevo compagnia avrei potuto sì prendere casa prendere casa lì e comunque godermi di più la vita universitaria però sarebbero stati comunque costi a livello di affitto e bollette eccetera che a 18 anni 19 anni da sola non sei in grado di affrontare devi avere comunque la famiglia dietro che ti supporta e io ho scelto di non trasferirmi ho fatto la pendolare è stato faticoso però fortunatamente in compagnia è stato meno faticoso durante l'università volevo guadagnare qualche soldino per me stessa e cercare di mantenermi ho fatto la weekendista da primark lavorava appunto 9 ore al giorno 10 ore con la pausa abbiamo un'ora di pausa quindi era un totale di 18 ore nel weekend o facevi il turno dalla mattina quindi dalle 9 oppure iniziavi il pomeriggio iniziavi più o meno verso le 2 del pomeriggio e finivi poi la sera dalle 10 o alle 11 sinceramente i lavori da weekendista se sei universitario o comunque sei un ragazzo che appunto studia fa qualsiasi qualsiasi cosa sono dei lavori che personalmente consiglio perché ti danno la possibilità di andare a scuola ad esempio in settimana e nel weekend puoi comunque guadagnare una bella una bella somma ricevevo almeno 800 900 euro al mese se pensi per soltanto 18 ore nel weekend è davvero una bella somma soprattutto ragazza di 19 anni che vive con i genitori non spese nel negozio dove sono ora appunto faccio un 30 d'ore è un part time faccio 28 ore scusate ed è un part time l'unica cosa di questi lavori il problema principale che tanti negozi diciamo che ti sfruttano un po per un anno perché poi dopo un anno e tre in nuovi o ti assumono a tempo indeterminato oppure finisce lì la tua esperienza lavorativa personalmente ho utilizzato tantissimo i siti appunto di ricerca per il lavoro mi sono iscritta linkedin ho notato comunque che avere un profilo linkedin è molto importante perché viene utilizzato davvero tanto dalle aziende durante la ricerca per la selezione del personale personalmente mi sono affidata molto a indeed appunto un sito appunto di ricerca per il lavoro c'è anche un'applicazione molto comoda avevo abbandonato l'università appunto per motivi miei personali l'ho lasciata in pausa pagando comunque sempre le tasse però non mi sono concentrata più sul lavoro ho deciso di continuare di lavorare ho richiesto se potevo fare una ripresa degli studi la mia fine della mia esperienza lavorativa coincide proprio con l'inizio della sessione estiva quindi ho deciso di finire di lavorare e dedicarmi agli esami allo studio in questi mesi non sono una persona che ha grandi obiettivi perché tante persone hanno spesso sogni sogni che vogliono raggiungere e guardi che vogliono raggiungere per me non è stato così sono sincera non ho mai saputo cosa volevo fare della mia vita quindi ho sempre provato un po' qua ho fatto appunto la commessa ho fatto servizio civile verso la biblioteca per quanto mi piaccia lavorare in contatto con il pubblico e comunque ho sempre amato il mio lavoro perché sennò non l'avrei fatto tutti questi anni ho capito che non è questo che voglio fare in futuro non è questo che voglio fare per tutta la mia vita adesso spero che comunque finire l'università e provare appunto fare uno stage nel mondo del marketing o comunque nel mondo dei social media eccetera possa darmi un'altra aprirmi un'altra finestra darmi un'altra visione della vita diciamo che sono una persona che vive un po' giorno per giorno senza farmi troppi pensieri sul futuro perché già è abbastanza incerto se poi ci aggiungo le mie ansie non mi aiuta quindi non lo so ancora grazie 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 grazie